parlate bla 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 zitto un attimo fa sentire a mia parlate salve a tutti i genti io sono Bulbunici e sono qui in compagnia di Dolkriper House e tu 47 allora ci troviamo qua stiamo giocando a Dammisia per una entusiasmante costume story esatto ma questa volta giocherà Dolkriper House che si scagazza parecchio devo dire o anche per quello che è uno dei più fifoni la mappa in questione è Nightmare allora dunque oh aspetta sono io spagnolo Frank Nguyen non ricorda no ma che cazzo è spagnolo si era in spagnolo e in spagnolo lo so e se mua la suerte se beh Frank Nguyen sguarda o quello che cazzo è non ricorda niente ma la suerte e non ricordo fatto benissimo la mia muerta non sembra un luogo chiuso oi hey ciao vabbè tanto che vuoi che capiti per cui aspettatevi parecchi movimenti tanto che inizierà a tremare tra poco come si mette la lanterna? con la G però non c'erai what the fuck oh ma non si disegnerebbe alzare un po' il volume bofford non lo so oh qui significa oh pirla gay oh oh scemo di legge stefano stefano a macarla ne ho fottiamo oh perché G apri adesso la torce no hai ragione come cazzo sei G con F dai muoviti apri sta cazzo di cosa no ma sei perché non ti sei esercitato? perché non ce l'ho gli amnisia praticamente devi prendere dove cazzo stai andando? ma che cazzo succede? ma che cazzo? ok torno indietro sono caduto non vedi che sono caduto? ma cos'è successo? sono caduto sono caduto eh rieccoci qua dopo l'ha caduto però si è buggato nel nel niente oh arriva oh no ok qua ti spermano in faccia ma ok io premo F per farti prendere la torcia e dovrebbe caricare ecco qua ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo mi sa che ha buggato a prescino no che schermo prova no cadi è ovvio provai ad aprire prima questo cassetto ma aperti tutto no e poi non mi aperti bene vai oh ma che cazzo ti hai bloccato il tivoco vabbè vaffanculo si blocca a tutte che stai cazzo di me ah stavo caricando ma che cazzo sta succedendo ah perchè hai toccato vai la quella parte segui la luce non devi toccare vai vai la non toccarti per quei 26 oh si oh stupido Daniel non è la Frank Suerda no è ah giusto questa è la versione spagnola notiamo i cicarito si chiama che cazzo è molto realistiche le luci troppo giri il muro no la non puoi è buggato stia attento che poi aaaaaaah qua in questa custom story la paura principale sono le le cadute libere detras de ti ah dietro di te cazzo cazzo ma dove non so che entra dietro di te gira 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 vai 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 ponte ponte puniti chi è nessuno una freccia un'acqua una pompa per l'acqua è giusto prendi un po' d'acqua pompa l'acqua e come sei no 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 chi c'è chi c'è là niente c'è spuglio eh ciao c'è spuglio non è che non mi sto seguendo è tutta strana sta costruzione oh entra qui ma che cazzo cos'è oh ascensore un ascensore ciao ascensore cliccaci ok non fa niente oh vabbè vabbè ok noi procediamo senza farci tante domande oh denirà parecchia fame oh una notata di fuoco ok allora inizia una cosa bellina adesso ok ehm mi piacciono queste stanze ma che cazzo ok ehm quelle illuminazioni di merda ehm vai aprendi l'olio ok qua ehm apri l'armadio sono deficiente la prima cosa che si fa ci puoi entrare ok ci puoi entrare ti è finito l'olio si va bene ti è finito l'olio no togli ehm apri ti è illuminato dove hai ragione perché è pagato minchia bello come lo apri trollando indietro oh un ago così guarda che puoi pungere wow era una punta hueca sarebbe ago cavo l'olio ovvio oddio io ho paura ci sono ci sono i mostri bastardi i puffer cosa sono quelli che chiamate che ne fanno puff è sparito ah i troll troll che cazzo sta dicendo che c'è come avrò le porte wow intenti risparmi ma principale chi ha acceso tutte queste candele e i bach sono ancora presenti due tutte le prossime puntate oh indietro indietro avanti 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 l'apritano ritrovi la ah guardate dai è tutto buggato ok che cazzo c'è lì forza entra dai no dai doc ah è tutto buggato di nuovo no devo scendere che basta sono proprio brutta queste scale ok non mi piace io odio le scale io odio anche i corridoi i corridoi le stanze che schifo tutto ciò che è buio e tenebroso oh che cazzo è quella cosa no oh mica mi sto cagando dai non è niente ah un muro hai sentito un muro? ma qui? che modo che modo di merda che è costruita questa casa? eh oh questo qua questo qua chi è? ma che cazzo che è successo? ok piano piano ma forse è un mostro del sonno che è successo? è pericolosamente basso tomf tomf ma come cazzo? no no deve essere tipo mezzo rincoglionito sinistra dove? dove? là c'è un buco là stai attento per entrare nel buco secondo me scompare da mamma non c'è nessuno eh guarda là sarà qui visto ruinas antiguas cosa sarà? oh cazzo camera antiguo ok dovrò censurare qui oh oh yeah va bene non si fa oh si no oh si oh no io l'ho po' inculati a sale giusto dai avanti 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 si possono toccare qualcosa che schifo no vai 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 puoi trascinare cosa cazzo ho fatto? ecco questo questo perché hai commesso il peccato no no cosa è successo? hai commesso il peccato della cazzo no dietro avanti destra corri fuggi 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 scappa no non usarlo scatto ora ferma cammina dietro di te cazzo aaaaaaah cazzo corri no no continua sei vivo mi son cazzo no forse era tutto programmato ah no gli è caduto in testa ha 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 che idiota che idiota è morto ma prima non era pieno in rovina all'improvviso toh ha ha mo no ma come faccio fatta? a spiaterarsi in questo modo andiamo facciano in giro un po' confatto come troffolo di guerra dai devi inchinarti inchinati ok un troffolo di guerra yeah and the winner is yeah no no non è lui yeah yeah ok lanciava verso il soffitto magari si bugga tipo lo ho preso al volo lo ho preso premi il tasto destro poi per lanciarlo attieni devo abbassare ah un tasto destro dai dai basta aspetta ci voglio provare tanto mi vabbè poi la tagliamo al massimo ok tagliamo tutta questa parte qui guarda guarda no aspetta aspetta eh no dai apri la porta questa parte la tagliamo calaboso 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 ovvero arrumbo la merda eh ok non si sa come siamo arrivati qui ok con dei topi grandi quanto un'alluce con le merdone di calmi ma non sono i muscoli non sono i muscoli qui mi sembra un'alluce sarà poi che stupisce ci si si vanno lanciare la pietra oh esprite una porta non ci si basta perdere tempo tu non voglio basta cos'è il sangue bancato è una merda questa cosa ok dai dai, guardiamo abri, che non vio o madre che sarà? guardate dove va al puntino vincarli eccessione s exonica che schifo erotica guardate dove va al puntino che scherzo lo scarafaggio è più grande del topo mi sembra giusto dai una gabbia peruccia guarda su ok no dobbiamo uscire a fare qualcosa siamo condannati qui la visione delle squerpo ancora ogni volta che li guardi deve esprimere il suo libretto e basta guardarli dice che la visione del loro corpo gli mette eccitazione si disgusta tutto bianco a destra guarda che non c'è la porta accendi che si stanno invambendo l'hai che stanno ingogliorando tu non c'è più odio come non c'è più o che sono invece distruggire aspetta aspetta qui prendi l'uelio e uno basta così almeno te ne accorgi ok guardi perché capito però non c'è un faffanculo potevo spingere direttamente ma basta varico di veloci puerta blu queta ma come si scrive no il suo pop in giù chi è che ha messo qua il deposito di casa no so che cosa sto sto risata sempre ma cosa carica di lungo qui no basta attendiamo attendere prego nel mentre io apro un po' e sotto il giugno e la moneta ma cos'è non lo so che provare sa cosa devi spegnere l'altra spingere un attimo carica l'hanno fatto sotto a baggata ma sei caduto la insieme a senso chi ha cagato popò il buco ma non ha senso si sta già cagando sotto bene sì però se guardi in buio magari ha più paura no apri l'ultimo cassetto che non è aperto tipo è rimasto si apre lì cosa prova la città la torcia magari si apre con la torcia ma poi la lunghezza del cassetto è minore rispetto alla lunghezza della alla larghezza della della ok guarda il bellissimo problema si stava caricando prima lo vedi sei blocca eravamo a cu... ah no ok si è bloccato guardando i cassetti si gli piacevano i cassetti ok basta spegni sta cazzo ah ok ok in questa mappa ci sono troppe cose a caso questo è una casa dei giganti prendi lo d'ora e va in quella porta questo basta non si sa perché sono così grandi ok forse no 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 per lei dove si è arrivato ok prova aprire questa porta magari ok no la guerra da google ma ecco ok leggero la chi la chi prendi la chi non dò nel braccio che cazzo è un braccio di pezzo sempre prendi lo prendi ancora puoi entrare cinica delle clinica della jaga mi sa che si in uno spettacolo premi doppia doppia clic ok poi vado a prenderci tutto fatto che cazzo era non lo so ok chi è una bella sbornia ieri vero sto lanciagli oh c'è un coltello puoi reagire poi non la sarei nell'altra costume story mi è servito ma che schifo scherzi da elementari dipendere da come la cosa di norimberga nella si però aspetta come cazzo è sembra che stiamo vendendo si ma si stanno come cazzo è l'inventario di merda e sarà tab ok ho bisogno di un altro uso mi pare che se lo fai i centri dentro però però non sprechiamo tanto tempo altrimenti l'olio se ne va con google cos'è successo in centro non è un bel titolo un bel po' di allora questo è un storico no a volte va un'altra urgia ma poi non c'è non c'è terreno ancora c'è ogni volta che vai vicino ai corpi lo scorpos chi è che spara pallini lo sapete che è illegale lo mettono una multa provare a guardare i corpi no cosa ho fatto lo scorpos è disgustoso mio dio si è stanno al quadro si ma è riuscita che peter e evita questo chi è non sa neanche lui come ci è finito con la chiede in marina amnizia tu ci hai detto mi dà una scuola non è colpa mia ho detto vai da quella e da una sensazione di di vuoto se non è veramente così per non sprecarne ok e rimaniamo qui tanto adesso si bloccherà sicuramente taglieremo queste parti perché no non lo so ma a caso stamattina basta o sto cercando i profilatici che quindi quello di prima ma non lo puoi chiudere quando col corpo avvicinati e sto caricando ok dai sta caricando sta caricando si è buggato dove lo vedi che sta caricando perché ogni volta che quando gli viene lictus e fa si ferma quando gli viene lictus e si ferma cosa succede sta pensando e sta caricando la porta tocca la porta tocca la porta la porta è la porta è bloccata no è la bierda è la bierda è ok vacci vero e c'è la ma la maison hanno quelle francese ok allora che ne so vai a fangulo ancora minchia ogni volta che possa qua lo devi dire no girati vai da quella parte ah forse bisogna il coltello per per sbloccarla prova ma è la chiave ma dice che è aperta si metterò nell'olio no da quella cosa devo fare segni satanici non puoi provare la chiave dice che è aperta però che non so magari ma cosa ma c'è dietro la porta c'è già provato fai dalla vergine di ronemberg va bene facciamoci intrappolare e non fa più perché non lo so non ci vuoi piantare che creato forse bisogna tornare indietro dobbiamo prendere il pugnale ho provato l'ho preso il pugnale tagli la sedia quel forse bisogna prendere solo il pugnale ho preso il pugnale appunto ora forse bisogna tornare indietro tu mi prendo ma per cosa non lo so ma cagli la testa ecco è finito l'olio dai dai va ok da che parte sei va sta fa schifo dai vieni con me a cuore giro 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 vai rispettiamo a tornare indietro vai prima non è ah è un po' chiusa però la libreria che magari ci potrebbe essere qualcosa interessante c'è olio l'olio no è quello schifo che cazzo ma bisogna cercare di trovare il il la strada per farlo c'è acciarino là dove lassù provo a andare puoi andare in fondo alla stanza oltre il corpo fermo ok dove andai da questo oltre il corpo a penzoloni qua no non fa qua verso il nero si no non fa no ma non ha senso fermo stommaro ma tutto qui l'ho steso questo di prima mi sto rincoglionendo no prova ad avvicinarti per vedere se ti dici ancora che ho verta ma porti a via ma poi siamo sicuri che a via da voglia dire aperta si si aperta e chi te l'ha detto lo sentito io dal mio amico alzi amici come cosa non so è baggata stamattina dice che per toccare una carta ma io di che ne so di pulisci il culo e puoi andare e vedo puoi pulisci il culo qua pulisci il culo qua ecco toccato ok ma cos'è ma poi che cos'è la roba lì la pelle di quelli di quei tipi a vedere che avvicino a questo che per prendere prova che stassi dovevi toccare quale non dovete avere quello ecco ora è aperta la porta di usire sì mi dovevo guardare bene le provette perché domani o no è aperta però non mi fa indire a mio che spettacolo da macabro scuse me le turni si chiesa dalla qualsiasi a quel cadavere non ci sembra un altro vero prova ad aprirlo ospe ops trova ad aprirlo è che bisogna fare quella valore davvero prova no non va io mi fa donna sì lo chiave ma sono aperta la porta perché cazzo ha fatto un pugnale a trasformarsi no no credo che dai squarciato però non voglio di fare l'animazione vai la porta ce lo vado ma la dieta vuol dire chiusa di sicuro no c'è il dito prima chiusa prima con la mia pronta era prima era bloccata la puerta è sblocca cosa è sto posto non mi piace quando sono delle luci blu che illuminano guarda guarda lì perché illuminano ok sono sono elettriche o da che parte vado da quella secondo me quella porta è finito l'olio perfetto si usa la pozione di sanità mettila nell'olio a posto nell'olio da ma per fare con le cazzate abbiamo perso tutto lo ho qui ok dai andiamo ok è abbastanza spaventoso molto luciroso mi chiesto cos'è cosa ha pagato no guarda no è il è quello di sotto vabbè ok io proprio ho fatto i compiti ok questo è il complizzo a casa ok io direi di tornare indietro e guardare in quella porta che hai appena superato io direi che là c'è un mostro perché sta diventando tutto più buio io direi che il video lo concludiamo qui si perché vinito e io c'ho paventia allora superagente per questo video è tutto ci sarà anche la seconda puntata però non fatta da me o meno no perché la seconda puntata devi fare a turni ok quindi la puntata a testa si ok quindi per questo video è tutto in descrizione ci sarà il link della mappa e ci sarà anche il link della pagina facebook ecco noi vi consigliamo di non scaricarla esatto perché è molto baggata però noi la facciamo perché ormai perché ci va tanto ci va quindi per questo video è tutto dai tu 47 iddo creeper house e bulbo 10 è tutto ciao ciao